Musica Allora dall'incontro di quest'oggi apprendiamo alcune notizie positive da parte del Friuli della Calabria il direttore Lofeudo ci ha comunicato che sarebbero dei treni nuovi in arrivo io ritengo che benvengano i treni nuovi però accanto ai treni c'è tutta una serie di situazioni che andrebbero un pochino presse in considerazione e bisognerebbe intervenire sulla manutenzione della tratta ferroviaria trovare un rimedio alla chiusura delle stazioni d'attesa, le stelle d'attesa ci ho permesso anche di suggerire a Friuli della Calabria di valutare alcune soluzioni come affidare le stesse strutture ad associazioni oppure concertare con i comuni tramite progetti fisici civili o lavoratori in mobilità una possibile apertura delle stesse affinché i cittadini non rimangano al freddo e al gelo in attesa dei treni abbiamo saputo che ci sono 61 milioni già disponibili per quanto riguarda studio di fattibilità e modifiche sulla tratta ferroviaria abbiamo però chiesto a quanto ammonte il totale del progetto che si prevede di realizzare e che possa consentire a detta di Friuli della Calabria di raggiungere Catanzaro Cosenza in un'ora tempi sicuramente molto dubbi per quanto riguarda noi sindaci ma anche la cittadinanza in sala per vedere un pochino quali sono le risposte concrete la Friuli della Calabria rischia oggi di diventare un'altra vicenda drammatica come l'ha stato meglio sa avuto che altro non fa che alimentare lo spopolamento nelle nostre aree interne ecco perché bisogna mantenere altra attenzione su questa problematica e far sì che si prendano provvedimenti concreti anche da parte della regione sicuramente può rappresentare un ottimo strumento di contrasto del spopolamento dei nostri territori ospichiamo a breve un incontro anche con la regione mi sembra venerdì mattina sembra avere un incontro con Musmanno per avere risposte concrete